Yeah, siamo dal vivo, yuhu, allora siamo dal vivo, adesso vado anche sulla mia pagina a fare, sono sulla mia pagina Facebook ufficiale stavolta, quindi ricondivido, eccola qua, condividila, aspetta, prendo da qua. Sì, perché sono riuscito finalmente, StreamYard mi ha dato la possibilità di fare la condivisione sulla mia pagina ufficiale, come la tua pagina artista, ho anch'io la pagina artista, che mettiamo, facciamo già che condividerlo, così vediamo quanti si collegano, ok, aspetta, facciamo un bel avvia video, e dai, scusate, mi scappa, anch'io sto cercando di, appena riacchiappo il link, lo scondivido pure io, condividi, ok, perfetto, pubblica, yes, condiviso, condiviso sulla mia pagina Facebook, benissimo, quindi questo lo posso chiudere, intanto aspettiamo che mettiamo anche il messaggio promozionale sotto, ok, aspettiamo che si colleghi qualcun altro, visto che utilizziamo Facebook, apro anche Facebook sul telefono, devo dire che l'home recording, la voce per l'home recording è un argomento che è piaciuto, è piaciuto perché in fondo secondo me è l'argomento più difficile, quindi... difficile, ma poi c'è anche più utenza, credo, nel senso che... Ma in realtà, guarda, i batteristi sono una bella... Ah, lo so, lo so, i batteristi sono una bella mandria, se posso dire... Sono una bella... un bel bacino d'utenza, hanno delle belle domande, hanno... No, ma aspetta, ma Facebook mi fa i sottotitoli? Ho scoperto adesso? Lo sta so... perché? Sì, mi sta facendo, non so perché i sottotitoli in automatico, ma io non voglio, vabbè, si vede che c'è un qualche cosa... Vabbè, comunque, c'è i sottotitoli... per chi è straniero si becca i sottotitoli in tempo reale. Wow! Pensa che bello! Questa è un nazionale, mi piace! Pensa che bello! E qui, dicevo, i batteristi alla fine sono una... sono molto... sono molto interessati, anche perché è uno strumento che è molto difficile da registrare in casa. Sì, sì, esatto. Quindi, essendo molto difficile... E poi si è già fortunati ad averlo in casa, voglio dire, no? Perché non tutti hanno questa possibilità, no? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi, vediamo un attimino quando arriva qualcuno, se si collegano alla nostra diretta... Io sto cercando di condividere intanto... Spandi, spendi e spandi. Sì, ma c'è un rallentamento... ho internet con i criceti oggi, quindi spero che lo succeda come la prima volta... ...sparire di nuovo. Dai, intanto diamo corrente con Pikachu. Hai visto che c'è l'aiutante adesso? È fantastico. È diventata la mascotte, perché noi siamo pieni di peluche in casa, quindi... Ho anche uno squalo gigante. Quindi, allora, direi che potremmo cominciare, che abbiamo charlato un po'. Quindi, a ricciao a tutti, tutti belli e brutti. Oggi, in compagnia di Mara, parliamo ancora di voce in home recording. Abbiamo fatto già una serie di incontri. Ne abbiamo parlato in altri video che trovate sul mio canale YouTube. Quindi, se volete andarvele a seguire tutti, anche i glitch di Mara nella prima puntata, che andava e veniva, li trovate in diretta. Detto questo, abbiamo parlato di microfoni, abbiamo parlato di schede audio, abbiamo parlato di programmi... Abbiamo parlato, mi ricordo male, anche di plug-in, qualcosa, abbiamo iniziato da... Abbiamo accennato. Abbiamo accennato. E quindi, adesso, Mara, vai. Che cosa... Cos'altro vuoi sapere? Volete sapere? Allora, se ne sono ancora parecchie di domande. Cioè, non ti lasceremo andare via così facilmente, secondo me. Io che pensavo di aver finito la quarantena, invece. Invece no. Allora, la domanda è questa, nel senso che a volte appare questa parola che fa spaventare un po' tutti e si chiama rendering. Che cos'è rendering? Ok, pensavo Equitalia, però anche rendering non è male. Anche quello non è male. Cos'è rendering? Tendenzialmente possiamo definirlo in italiano come finalizzazione, come termine. Ovvero, una volta che voi avete terminato la vostra sessione di registrazione, editing e mixaggio, c'è una funzione da fare che, chiamiamolo rendering bounce, questi termini un po' così. Io la chiamerei proprio finalizzazione, ovvero la chiusura del progetto. Quindi si prende la nostra DAV, tipo una cosa del genere, guarda come sono attrezzato, e gli si dice di fare un file stereo di chiusura. Quindi vi genererà un file con la somma di tutti gli stems, quindi tutte le voci che avete fatto, le basi, i plugin, tutto quello che voi avete sentito in cuffia, verrà generato su un file stereofonico. Quindi il rendering è nient'altro che la chiusura. E' più un termine video rendering che non audio. L'audio di solito c'è il bounce, quindi la trovate come voce nei programmi, di solito c'è il bounce, l'export, oppure in alcuni studi come faccio io, e io non faccio proprio il bounce, quindi non schiaccio il tastino per fare il bounce, ma riregistro tutta la traccia all'interno del programma. Faccio una cosa diversa. Questo perché in studio, non in home recording, ho il banco digitale, quindi faccio passare tutto il segnale del computer dentro i pre del banco, e poi registro sul master generale, quindi faccio un ulteriore passaggio. Per esempio dovessi estrarre soltanto la voce, è una cosa possibile? Sì, sì, allora normalmente i programmi hanno degli export che ti permette di esportare solo una traccia, quindi puoi fare l'export solo di una traccia, anche perché se tu la registri in casa, e poi vuoi dire, registri la tua base e tutto, e vuoi farla mixare fuori, devi mandargli tutte le singole tracce, quindi devi fare un export di ogni singolo, o stems, quindi o gruppi, possiamo dire, per dire, mi puoi mandare la base, la voce principale, i cori. Io ti manderei a quel paese perché preferisco verli tutti separati, però diciamo che si fa anche questa cosa qui, si manda, specialmente in master si fa questo lavoro qua. e quindi si prende la base, si fa lo stem stereo, la voce, e poi si fa i cori. Ok, e la traccia della voce praticamente può uscire in stereo, in mono, in differente? Sì, in realtà allora se fai un bounce finale esce tutto il file stereo, quindi destra e sinistra, poi sarà quando l'ascolti in cuffia o sulle casse che sarà centrale, perché normalmente la voce è mono. Se devo dirti la verità, se io dovessi ricevere un lavoro, come quello che mi capita, chiedo sempre di avere la voce in un file mono, perché se no, comunque vada, anche fosse stereo, il programma me lo vede in mono, perché la somma delle due tracce, non sono dei termini bruttamente tecnico, sono perfettamente allineate, sono in fase, quindi diventano automaticamente mono. Se fossero leggermente sfasate, avresti la stereofonia. Certo. Quindi, però una voce è meglio averla in mono, perché poi cosa succede? Se io ce l'ho in mono, successivamente quando applico gli effetti, gli effetti fanno un bel effetto di riempimento e la voce ce l'ho centrale, quindi uscirà più facilmente nel panorama stereo. Questa è una risposta molto interessante, perché così se qualcuno decide di, diciamo, mandare la voce fuori per fare il mixaggio, perché magari non se ne occupano, quindi in casa noi facciamo l'home recording, un po' di editing e poi via, cioè lasciamo la palla a qualcun altro, almeno sapere come... Sì, sì, diciamo che poi, poi vabbè, normalmente quando contattate uno studio di mix, come faccio io, fanno altri, ricevono i file, li carichiamo nel programma e li verifichiamo, cioè se c'è qualcosa che non va, messaggio, mail, adesso si possono fare anche queste cose, video chat e quant'altro, dire, guarda che preferirei aver la voce mono, ma non sono capace, benissimo, te lo spiego, si fa il tutorial in tempo reale di come esportarla in mono, oppure dove andare a pinzare, perché alcune volte si può andare anche, se il file è unico, si può andare a prenderlo nella cartella del programma dove vengono salvati tutti i file audio e mandarlo, cioè non è detto che devi proprio esportarlo, diciamo che l'operazione di esportazione così serve principalmente perché se tu hai fatto dei tagli e non hai riunito le tracce sul programma, se tu vai nella parte media ce l'hai tutta a pezzetti e io ti maledico fino a che non, finché vivi, che mi è capitato, non è che non mi è capitato, però l'ho ricomposto perché fortunatamente i programmi sono intelligenti, ti mettono 1, 2, 3, 4 sul file, quindi però normalmente si possono, se la traccia è unica, come dovrebbe essere quando finalizzi la cosa, vai nella cartella media e puoi mandarmi, puoi mandare gli stems direttamente da lì. Direttamente, ma allora vi faccio ancora una domanda, visto che siamo entrati nell'argomento, nell'argomento, è uscito un bollino Benfi, la settimana scorsa mi è ricapitato di vedere i due allenatori nel pallone, che sono diventati dei, erano tre scioni allora, adesso sono dei must, chiuso l'apparente, è un po' come, ho visto che tu, mi sembra che te hai postato una cosa del ragazzo di campagna, eh lo so, lo scordo, e tra l'altro l'ha andato a inizio quarantena il ragazzo di campagna, infatti c'è quello è un mito, è proprio la scena, il microfono, spaghetti, in digestione, in sala, anche quando mi preparo le cose, scheda audio, tag, tutto così, perché se uno va con un ordine, Cioè, per fare le cose corrette. Allora, adesso torniamo in serie, perché poi se noi ci lasciamo prendere da queste risate, raccontiamo un sacco di cose. E' anche bello, anche bello, in questo momento, ricordo degli anni che furono, del TV trash italiano. Qui sono film storici, cioè, non ce n'è, ragazzi. Potremmo fare una diretta e raccontare questi filmoni. Esatto. Teniamo la mente, teniamo la mente, per esempio, si può fare. Quindi, dicevi, domanda alle cianche, allora. Torno a serie, un attimo. E dunque, volevo dire, appunto, facciamo finta che ho registrato la voce, e mi serve un mixaggio professionale, perché voglio, voglio magari fare questa cover da pubblicare, o una mia canzone, magari una mia canzone. Che parametri generalmente ti servono? Cioè, nel senso, come te la devo mandare questa traccia? Ci sono degli hertz, dei beat che devo seguire? Allora, normalmente dovrebbe essere, se non mi ricordo male, almeno 44 kilohertz, e 24 beat. il beat rate dovrebbe essere quello di standard. Puoi anche mandarmela a 48, non è un problema, puoi mandarmela anche a 96, ma non serve a nulla, o meglio. 96 è pesantissimo. Sì, ma non, non nell'audio, tanto quando poi lo riporti, per il metterla in CD, riporta tutto 44, quindi, normalmente, guarda, ti dico, faccio 48, per una questione di qualità dell'audio, un pochettino più precisa. e poi dovrebbe essere 44 e, 44 e, te lo dico subito, guarda, perché io, aspetta, yes, usciamo, apro un attimo il programma, e ti dico subito il beat rate. Apro logic, facciamo pubblicità, compra logic, devi avere solo un Mac, c'è la grande battaglia tra, allora, se io apro, mi tratta via la voce, cosa è successo? Eccomi. Ok, si è smutato. Probabilmente ho aperto logic, logic ha detto, ma ascolta, perché, allora, eh, mouse, allora, ti dico, il wave deve essere a 24, io il wave lo faccio, se il progetto 24 bit, 44 e 100, tranquillamente, ma il wave standard è quello, guarda, lo faccio anche, faccio anche vedere, look, facciamolo, questa è la funzione di bounce, di logic, vedi? Sì. Lui no, posso portarlo anche a 32, però lo standard è 44 e 100, e 24 bit. 24 bit. E il formato sempre è wave, giusto? Diciamo che i formati sono, sono due, diciamo che c'è o IFF, che è un formato, che leggono tutte le DAV, oppure wave. Wave, normalmente, è quello standard, quindi, qualsiasi programma, lo legge, quindi wave. Perché alcuni programmi permettono anche di estrarre in MP3, però è sconsigliabile. ascolta, se mi si manda, guarda, l'MP3, io quando faccio il bounce, ce l'ho, perché, cosa fai? Quando fai il bounce così, dici al programma, generami anche un MP3, perché il cliente, 99% delle volte, vuole avere l'MP3, perché pesa meno, se lo carica sul cellulare, e quant'altro, quindi, si fa, l'MP3, vediamo, per esempio, ce l'ho a 160 di base, perché il 128, sarebbe la qualità CD, 160 è un po' più bello, e l'MP3 viene un po' più carino, ecco, diciamo, una cosa del genere, non è, allora, per mixare, mai l'MP3, solo wave, se volete ascoltare, sul telefono, quant'altro, benissimo, l'MP3, tanto, il cellulare, quando lo passa, che usiate, io uso Apple Music, o quant'altro, se lo ricomprime, in un suo formato. Certo, wow, ok, ci sono un sacco di informazioni, tra l'altro, molto tecniche, quindi, stai entrando, sai cos'è, è un canale, no, più si stringe, e più andiamo, sul tecnico, mi spiace. Però, buono a sapersi, nel senso che, comunque, se qualcuno volesse, cioè, fare un mixaggio, all'esterno, almeno, sa come muoversi, all'interno del programma, no, quindi, sì, sì, assolutamente, sì, diciamo che, sono cose che si imparano col tempo, non è una cosa che, cioè, è chiaro che, se ti danno la dritta, è più facile, però, il 90% delle volte, al primo giro, lo fai da solo, sbagli, brutto da dire. Certo, ma sbagliando ti impara, io lo dico sempre. Sì, guarda, io in un lavoro, in un lavoro precedente, mi sono trovato nella condizione, che dicevo, ma come si fa questa cosa? Eh, prima la provi a fare, poi se non sei, se la sbagli, te la spiego. Io ho avuto questo insegnamento. Ti dico, forza di smanettare, poi uno impara, è normalissimo. È chiaro. Ho distrutto il computer, prima ti imparavo ad usarlo, quindi va bene. Vabbè, dai. Ok, allora, ti faccio ancora una domanda, no? Perché poi, magari, nel nostro mente di cantanti, di home recording, a volte può sfuggire, no? La differenza tra il mixaggio, tra il mix e il master, no? E avere un po' più chiara questa idea, e distinguerli anche, che non va a fare le due cose. Allora, per farti capire, dovrei, guarda, c'era un meme, bellissimo, adesso non ce l'ho sotto mano, che fa capire, come, cosa vuol dire fare il master, cosa vuol dire fare il mix, e poi fare il master, perché sono due cose, tu ridi perché l'hai visto, secondo me, quel meme. No, allora, il meme, non lo sto immaginando. Il meme è una donna, che si sveglia la mattina, senza trucco, e quella è la registrazione, poi si fa il primo trucco, quindi diventa già un po' più fichetta, e diventa il mixing, poi diventa una gnocca mostruosa, col master, poi diventa di nuovo brutta, con l'MP3, ecco, questo era il meme, che girava, fondamentalmente. Un po' maschilista, questa cosa, però, io mi rivolgo alle gentil donzelle, non è che posso fare un esempio, di un uomo, gli uomini, pochi che si truccano, dai la mattina, siamo onesti, dai, no, però giusto, secondo me, guarda che era l'esempio, che secondo me calzava, proprio, proprio benissimo, no, il discorso di mix, che cos'è il mix, fondamentalmente, è prendere, guarda, apro, vediamo se trovo una sessione, di Pro Tools, vediamo un po', vediamo, ne apro, cerco di, di aprirne una, così, apro uno schermo, che è più semplice da spiegare, allora, questa qua, no, no va bene, 8000 sessioni, di Pro Tools aperte, o questa, vediamo questa, ok, don't save, fondamentalmente, bisogna immaginare che, la fase di mix, è quella che mette, a posto tutti i tasselli, di un puzzle, no, ok, tu ti trovi ad avere, un bellissimo puzzle, sparpagliato, no, quindi, devi iniziare a mettere, gli angoli, mettere, insomma, creare quello che il, l'amalgama, che, che, che vuol dire, che non vuol dire, che, devi alzare sempre i volumi, abbassarli, cioè, ci sono tante cose, del tipo, dare carattere, a una voce, e dare carattere, ecco, finalmente, ho trovato una sessione, ecco, questa per esempio, e, adesso facciamo, così, ok, questa, è una sessione, interna, che ho io, di, di Pro Tools, le, queste, che potete vedere, sono, tutte le tracce, già ordinate, ho fatto poi un tutorial, per spiegare, come, come generare questa cosa qua, fondamentalmente, ehm, io cosa faccio, prima di tutto, ascolto tutte le tracce, perché devi, devi avere un'idea, di quello che succede, e poi, nella mia mente, mi faccio già un, un mix mentale, che, sembra quasi una cosa da Jedi, ehm, però inizio a dire, magari, me l'ascolto, ascolto tutte le parti, la voce magari, in un punto, la voglio più alta, ho già l'idea, di come mettere, i riverberi, perché poi è quello, il, il grosso, no? Il grosso è capire, innanzitutto, adesso ti apro, per esempio, vediamo se è una lead vocal, cioè, può essere, aspetta, perché, facendo gli esempi, io riesco sempre, ad avere le idee più chiare, di quello che è il, il lavoro, il lavoro che fa uno, il mixaggio, che poi, come dicevo, in un'altra, un'altra volta, il mixare, non vuol dire mettere tante cose, ma vuol dire, avere, mettere le cose giuste, al momento giusto, che, che, sembra una cosa, ok, ce l'ho, eccolo qui, perfetto, quindi, ti dicevo, questo qui è un, un plugin che uso io, adesso vado sul, per dire, andiamo qua, sulla batteria, questo qua, è un kick, gli interventi, che sono andato a fare, sono andato a fare, degli interventi, vedi, su delle parti piccoline, ho tolto, delle cose, quindi, cosa ho tolto? Un pelino di queste parti, di basse, a 480, hertz, e, vedi, sono andato a tagliare qua, io ho dato della compressione, ho fatto un taglio a basse, scusa, un passalte, io ho dato il carattere, e quant'altro, quindi, piano piano, ho iniziato a fare tutte le operazioni, che servivano per migliorare l'uscita, poi, c'è un'altra parte, che è la parte relativa alla compressione, di tutto, la, tutta la canzone, quindi, andare a mettere dei compressori, alla fine, però, anche lì, metto sempre i compressori, in maniera delicata, non vado a estremizzarli, qui, parlare che cos'è un mix, ti ho detto, è come mettere insieme un puzzle, che alla fine, hai, ce l'hai tutto bello disteso, e tutto a coerenza, a senso, il master, non è, ecco, consideriamo che un mix, non è un lavoro da 5 minuti, 10 minuti, è un lavoro, è un mixaggio ben fatto, secondo me, non ci vogliono meno di 2 ore e mezza, 2 ore e 2 ore e mezza, questo perché, perché, devi, innanzitutto, non puoi mixare per 2 ore di seguito, certo, quindi, mixi, no, ma è impossibile, perché, le tue orecchie si stancano, cioè, se tu vai a un concerto, quando esci dal concerto, e le orecchie stanche, fischiano, e il suono, che magari all'inizio era bellissimo, alla fine, ti può dare fastidio, Joe Satriani, che, forse sai chi è, in una, un workshop, diceva, che lui, in studio, registra 15 minuti, e poi esce per 10 minuti dalla stanza, perché, il suono che ha sentito quei 10 minuti, gli andava bene, se superava quei 10-15 minuti, diventava brutto, e quindi iniziava a toccarlo, ed era sbagliato, perché il suo orecchio, che ha deciso che era sbagliato, certo, sfalsava un po', e sì, perché, bravissima, perché cosa succede, l'orecchio umano, dopo un po', si abitua, e quindi inizia, come spiegava un altro, un altro ragazzo, si abitua delle cose, quindi non si accorge, più di tanto le differenze, anzi, tende a cancellartele, delle cose, perché si stanca, quindi, diciamo che, il mix è proprio quello, poi, vabbè, si lavora con i riverberi, si lavora per le voci, un po' con i delay, salutiamo, oh mio, Vincenzo, che si è collegato, ciao Vincenzo, ciao, e quindi, quindi il discorso è quello, nel senso che, il mix è proprio mettere, dare coerenza alla registrazione, in base anche al genere che uno registra, ovviamente, certo, per esempio, parliamo di mixare metal, le chitarre saranno davantissime, rimixiamo il pop, la voce molto davanti, magari le tastiere, una chitarra acustica, leggermente più avanti, i cori, i cori, sì, anche se i cori dipende, secondo me, molto la voce fa davanti, i cori devono essere belli, e di riempimento, ma, se ascolti molte produzioni pop, per esempio, archi, pianoforte, sono leggermente, tutti più avanti, chitarre distorte, dietro, che fanno un po' da tappeto, quello che nel metal, fa il pad della tastiera, nel pop, e lo fanno le chitarre, è tutto diverso, sono stili, certo, invece, per quello che riguarda il master, il master, che cos'è, se vuoi, ti faccio la storia del master, però, è un po' lunga, il master, fondamentalmente, è quell'operazione, che permette, a noi, di ascoltare, a volumi ottimali, le canzoni, ho detto, volgarmente, sempre volgarmente, perché poi ci sono, delle altre cose, in mezzo, però, servono a te, perché, di solito, il mix esce, a meno, circa, meno 15 dB, meno 15, meno 12 dB, bisogna dargli, un po' di RMS, perché esca fuori, soprattutto, quando lo ascolti, sugli impianti, i file, le cuffiette, i cellulari, bisogna salire, una definizione, di RMS, così, allora, gli RMS, sono volgarmente, il suono, che riesci, a percepire, ti dico, il termine giusto, così, l'RMS, si riferisce, a, quanto generano, di volume, gli amplificatori, quindi, quanti, cioè, è lunghissima, come spiegazione, secondo me, tediamo la gente, però, fondamentalmente, io, tengo, controllo sempre, due parametri, quando devo comprare, per dire, delle casse, acustiche, tipo, ti dicono, 800 watt, di potenza, in, 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 di RMS, ok, io, invece, guardo, i db, che generano, perché, più è alti decibel, e più volume ha, perché, fondamentalmente, potrei darti, 5000 watt, e poi, ti do, 50 db, di uscita, quindi, la saper, nel senso, se qualcuno deve comprare una cassa, se volete, una cassa, che suoni, forte, non guardate, i watt, perché, ci sono delle casse, che hanno, 200 watt, e poi, magari, ti sparano, 120, dai 105, ai 120 db, di uscita, il che vuol dire, che quello, quando lo tirerete a chiodo, prendete un, un contatore, di decibel, e vi dice, che sta sparando, a 120 db, che, è fondamentale, guarda, è uno dei parametri, principali, che io andrei a vedere, buono sapersi, questi sono i consigli, per gli acquisti, sempre, bene, abbiamo fatto, mi sa quasi, tutte le domande, vediamo un po', e sì, perché alcune, meno che abbiamo, hanno miscerato, sì, perché abbiamo parlato, di quante ore, posso registrare, di fila, a questo punto, adesso che mi hai tirato fuori, i satriani, mi viene in mente, una tecnica, la tecnica del pomodoro, no, che, adesso, si usa per lavorare, meno, di freelance, la usano quasi tutti, l'ho vista dal mio fratello, l'altro giorno, guardavo sul computer, e mi dicevo, ma cos'è sta roba, del pomodoro, loro fanno 45 minuti, più 15 di pausa, no, qualcosa di che, sì, sì, l'ho vista, puoi impostarlo anche a meno, guarda, adesso, io l'ho guardata, sta cosa, della tecnica del pomodoro, perché ho letto, apro il suo computer, che stavamo guardando delle cose, per migliorare l'audio nei video, loro fanno video, di viaggi, queste cose qua, e, allora, mi ha chiesto dei plug-in, per migliorare l'audio, perché io, mi riammento sempre, per lo spiccherato, di tutti i video di YouTube, il 90% di, degli YouTuber, che fanno video così, e video anche per, spiccherati, il 90% hanno la voce stereofonica, che è fastidiosissima, e poi non è ben messa a focus, cioè, qui hai bisogno, quando fai un video, uno spiccherato così, hai bisogno dell'effetto prossimità, che non c'è, perché ovviamente, se lo, se lo dimenticano, perché ho visto come lavorano, Premiere e quant'altro, ovviamente bisogna andargli a dire, certe cose, lui poi spara tutto il volume a manetta, quindi, e allora, mentre guardavo, c'era sto coso del pomodoro, ma che cosa, scusami, spieghi, cosa hai detto, stai cercando una ricetta, no, sai, una nuova tecnica, che lavori 25 minuti, poi lui ti avverte, fai 5 minuti di pausa, ah sì, fanno 25, dipende, ognuno se lo, se lo, e io, e io mi sono girato, Bonagno, mi è forte, hai detto, è che te c'hai bisogno di un computer, per dirlo, cioè io lo faccio di default, quando sto mixando, guardo il timer, ok, mi fermo, cioè, non è, perché sei abituato, sei abituato, sì, no, ma sai perché, ma no, ma perché poi, essendo abituato a fare il lavoro di mix, e quant'altro, ma poi, anche, avendo sempre lavorato in, negli ultimi 12 anni, proprio, e comunque ti devi dare dei tempi, certo, e quindi, non puoi tenere il cervello, io sono anche uno di quei fautori, che qui mi linceranno, lo so già, di mettere per legge, che non si può fare la pausa pranzo in ufficio, hai ragione, perché se no, io sono, fautore, di fare, non fare la pausa pranzo in ufficio, e se avete ticket restaurant, mandatemi a quel paese, li dovete spendere nei bar sotto gli uffici, ma non per cosa, prima perché se stai tutto il giorno nello stesso posto, non rendi, rendi meno, perché il tuo cervello non si ossigena, lo sai perfettamente, no? Quindi, andate a fare la pausa pranzo fuori, ve ne andate in un bel bar, vi prendete un bel panino, una bella birra, staccate il cervello, e rendete il doppio, ma voglio dire, lo so che, so già che perderò milioni di follower, per questa cosa qua, però, no, ma è vero, questa cosa è vera, soprattutto, cioè, nel senso che, adesso lo, siamo un po' divagando dall'argomento, però comunque, perché è colpa della tecnica del pomodoro, che si è finiti qua, però, è colpa tua, hai tirato fuori te il pomodoro, ma io l'ho tirato fuori per Satriani, perché secondo me, lui il pomodoro ce l'ha lì, perché 15 minuti, poi 10 minuti di pausa, insomma, quello, in realtà, è un consiglio che, chiedo proprio anche a tutti quelli, che magari vogliono registrare a casa, di non farsi delle tirate lunghe, te ne accorgi subito, guarda, quando io, basta che apro il programma, carico la tua traccia audio, io vedo dove eri stanca, perché si vede proprio che diminuisce, diminuisce, non è più precisa, ok, e poi, voglio sottolineare, anche l'importanza di scaldarsi, prima di iniziare a registrare, perché questo, quello fate i vostri gorgheggi, le vostre cose, non si può, esatto, i nostri gorgheggi, i vocalisti, perché anche Monica li fa, e quando vi fa, ci interessa, ma perché, sono, so che sono cose professionalistiche, lo so, ma perché, però mi fanno, mi fanno troppo ridere, esatto, no, adesso non vorrei dire una parolaccia, ma proprio per il culo, cioè, no, è vero, e quando ci sentono, ci sentono così, però noi servono, se devi fare, non dico buona alla prima, perché a volte non succede, però comunque, arrivare a già una voce, bella pronta, insomma, serve un attimino di rispondimento, anche perché, io spiego sempre, che, tutto, quando si fa musica, che sia il cantante, o il chitarrista, quello che utilizzi, sono, dei muscoli, che vanno scaldati, cioè, un calciatore, non è che entra in campo, e fa la partita da 90 minuti, oddio, capita che, però si scaldano già prima, però non vi fa ridere il calciatore, che fa l'allenamento, questa cosa no, dipende, perché tu non vai allo stadio, ci sono dei giocatori, che fanno ridere, quando fanno l'allenamento, fidati, quindi, no, il discorso è questo, cioè, se, in qualsiasi attività, io quando facevo lezioni di chitarra, spiegavo ai bimbi, gli dicevo, bimbo, lo facciamo riscaldamento alle ditina, no, e ma perché? Io ho detto, tu vai, dopo vai a giocare a calcio, sì, eh, ma mica fai la partita subito, eh no, prima ci scaldiamo, scusa, che cambia, stessa cosa, solo che utilizziamo le mani, i cantanti usano la voce, i batteristi anche le gambe, quindi, cioè, per dire già, i chitarristi, che adesso stanno, suonano in piedi, due mesi, tre mesi, senza le prove in piedi, per esempio, la schiena ne risente, certo, quindi, insomma, adesso stiamo facendo anche, terapia musicale, insomma, fa tutto, nel senso che, anche appunto, quando ti metti a registrare, almeno noi cantanti, solitamente registriamo in piedi, quindi, anche perché da sedute è un po' difficile, da sedute è un po' difficile, a meno che non ci siano, proprio di problemi motori, in sostanza, sì, lì un altro, lì un altro paio di, di maniche, però comunque, quello che, che dobbiamo considerare, è che il cantante, non solo deve allenare la voce, deve allenare una serie di muscoli, che neanche si immagina, che partono dai piedi, fino ai muscoli del viso, cioè, quindi, abbiamo veramente un sacco, Eh sì, no, ma chiaramente, ogni cosa, ha un suo, come si dice, una sua peculiarità, e deve, deve essere seguita, in una certa maniera, se la si vuole fare, bene, e quindi, anche quando, registri, mixi, comunque, non puoi andare all'infinito, cioè, ore, 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 io, quando mixo, dopo, quando sono fatto le mie due ore e mezza, di mixaggio, poi dico, ok, pausa, basta, me ne vado piuttosto a mangiare, poi, se devo ritornare sul mix, perché c'è qualcosa che nella mia testa, non mi torna, ci torno quando le orecchie asciutte, certo, non quando sono rovinate da due ore di lavoro, anche perché, non si mixa mai ad alto volume, tra le altre cose, questo è un mito da sfatare, che noi mettiamo a dieci di volume, no, si mixa a un volume calmierato, che ho già spiegato in un altro video, certo, ti faccio ancora una domanda, l'ultima, poi, poi parliamo dei pomodori, poi parliamo di una tecnica del pomodoro, magari se poi qualcuno ti interessa, facciamo anche, che ne so, magari, tecniche di concentrazione per musicisti, qualcosa del genere così, che ci può stare, allora, noi abbiamo parlato dei microfoni, che si canta in piedi, appunto, tutto quanto, come struttureresti tu lo spazio tra leggio, microfono, senza dover dare colpi, riuscire a leggere, allora, ti spiego, mi siete mai chiesti perché i microfoni vengono appesi tipo salame? Eh, perché così non è l'imbroglio dell'asta in mezzo, quello è fantastico, la giraffa, quello... Sì, il microfono, normalmente, quando si, se la cantante o il cantante non sale parti, perché poi, se sale parti, non è un problema, perché volendo gli metti un leggio di lato, e via, però, ci sono due motivi, uno, perché vedete spesso i microfoni appesi come i salami, o come le coppe piacentine, primo, perché, quando i microfoni a condensatore, una volta erano a valvole, avevano la valvola dentro, e messi in quella maniera, il calore andava in su, e quindi, riusciva a respirare molto di più, non andava giù, e anche il cantante, non dava problemi, perché la valvola scalda, e seconda cosa, adesso viene fatto, proprio per quel motivo, perché lasci spazio, e non avere il cavo sotto, puoi metterti un leggio frontalmente, e non avere il problema, che sta davanti al microfono, sbatte, ci fa questo, queste cose qua, quindi, in realtà, il motivo per cui è girato al contrario, era un motivo tecnico, una volta, quindi di calore proprio del microfono, e seconda cosa, adesso lo si fa anche per, e poi, per un altro motivo, è che puoi girare, l'inclinazione della capsula, per prendere la voce, senza doverla girare sotto, ma è molto più semplice, perché il cantante sta fermo, e adesso metto di lato, e fa questo movimento, qua la capsula girata così, anziché averla sotto, che deve fare questo, quindi, questo è un ottimo suggerimento, quindi, sì, diciamo che se dovete registrare in casa, avete il problema dello specchio, l'antiriflesso, di E davanti, conviene prendere, due aste, avere un'asta per il microfono, che va sopra, l'antiriflesso, e quindi potete mettere sotto, tranquillamente, il, il leggio, o comunque, in paragone, è un'asta giraffa normalissima, cioè, ci sono quelle super pro, mega giganti, che costano l'ira di Dio, però voglio dire, un'asta giraffa, da 25 euro, va più che bene, ecco, ok, bene, cioè l'importante è che vi permetta di, salire, e fare mettere il microfono, a, cioè, in teoria, anche con questa roba qui, che, adesso vi faccio vedere, si può fare, volendo, questo io, tipo da, da spiccherato da radio, no, qui, e, si può fare anche con questa, però a me risulta scomodo, perché me lo troverei davanti ai monitor, invece così. Certo, e sulla sta giraffa, si mette anche quel ragno, o meno che ragno? Sì, no, il ragno, allora, il ragno, o lo shock mount, come il termine tecnico, il ragno, devi metterlo ad ufficio, nel senso che, questo è il ragno, tanto per intenderci, questo qui è un ragno, il ragno non puoi fare altrimenti, perché questo non ci sta su nessuna clip, quindi al suo, che è questo, che è il ragno, il supporto, praticamente, il supportino, questo permette al microfono che se prende un colpo, è un anti-shock, vedi, perché è messo su delle molle, alle molle, alle molle, tranne la Leavit, che fa, per questi microfoni da podcast, invece fa, non fa il ragno, ma fa, ma supporto, un supporto suo, ha un supportino, rigido, che puoi regolare in due punti, poi, fa il ragno anche il suo, per i suoi microfoni, con, addirittura, sulla serie del 441, quello che è un altro in studio, ti mette questo filtro antipop, davanti magnetico, si attacca, ha un aggancio tutto suo, e ha un questo filtrino, che, si piazza proprio davanti alla capsula, e non è ingombrante come questo, è un po' più leggero, sì, è una cosa che non avevo mai sentito, una roba, neanche io, quando ho sballato il pacco, appena riesco a tornare in sala, che prendo il 441, e posso fare il video, vi faccio vedere questa cosa qua, che secondo me è veramente, quella è molto, molto furba, perché eviti di avere, il filtro antipop, che, prima, che si muove, poi, ci putazza dentro, l'altro lo pulisci più facilmente, questo, lo lavi, devi appenderlo, aspettare che asciughi, certo, sì, wow, bene, mi sa che abbiamo, non lo so, io ho usato gli argomenti, mi sa che hai risposto a tutto, quelle domande spinose, che volevo farti, in tre puntate, abbiamo detto di tutto e di più, Siamo stati bravissimi, anche perché, io e Mara, stiamo già, partorendo, lei tra un po', io, nella mia mente, stiamo partorendo, delle idee, per tutte le persone, che sono interessate, poi, ad approfondire, bene, il discorso della voce, quindi, stiamo, stiamo lavorando, per trovare, una soluzione, per fare poi, possiamo dire, il tipo dei workshop, proprio, diciamo, lanciamoli, dai, vogliamo fare dei workshop, appena si potrà, più che virtualmente, proprio fisicamente, sulla voce, proprio trattare, far vedere, appunto, della mascherina, perché, se no, sarebbe inutile, quindi, mettiamo un filtro, tipo, automatico, come, la mascherina, noi andiamo in giro, con il filtro, tipo, così, no, diciamo che, l'idea, che adesso, visto che siamo arrivati alla fine, possiamo dirlo, l'idea che avevamo, era di fare, delle, delle classine, di, chi vuole approfondire, il discorso della registrazione, quindi, partire da un discorso, di, proprio registrare una voce, e poi, fare tutti i vari trattamenti, per arrivare a un, a un prodotto, finito, tra virgolette, quindi, se ci, seguite, tutti i due canali, sia quello di Mara, il mio, poi trovate le indicazioni, magari chi è il più, ovviamente chi è più di Torino, è più facilitato, poi, se vogliono, venire anche da fuori, li prendiamo, li prendiamo tutti, non ci formalizziamo, e quindi, stiamo vedendo, quando ci diranno, che si può organizzare, banchetti, birre, grigliate, quant'altro, soprattutto, soprattutto, questi eventi, che sarebbe la cosa migliore, cercheremo di organizzare, questa, questa cosa qua, perché vedo che comunque, c'è interesse, anche a, a fare un, dei workshop del genere, certo, bene, è stato bello, è stato divertente, è stato bello, no, è stato, secondo me, l'idea di questi, di questi incontri, era di, aprire un po', la mente, e quindi, far, cercare di dare, un'ispirazione, per dire, ok, si può fare, ci provo, vediamo, e, poi, troviamo delle persone, competenti, che spero, siano state competenti, nei vostri confronti, e che, con cui, poter, da cui poter imparare, qualche cosa, per realizzare, qualche, qualche prodotto, made, di buona fattura, perché quello, è l'obiettivo, bene, anche perché poi, noi dovremmo sentire, anche, no, questi prodotti, home made, assolutamente, noi siamo, poi, vabbè, potete contattarmi, sulla mia pagina, facebook, per le review, e quant'altro, ci sentiamo, adesso sto preparando, lo dico in anteprima, lo sai anche te, finalmente sto mettendo su, anche il mio sito, personale, che sarà, marcoallevandi.it, perché sempre, grazie della quarantena, riesco a fare, anche queste cose qua, quindi, ci saranno poi, tutte le sezioni dedicate, a chi vuole fare, anche solo dei review, quindi, una consulenza, relativa al mix, o una registrazione, oppure, seguirlo, nella registrazione, poi, vabbè, mixaggio, e quant'altro, ma quelli sono servizi standard, che ho, che ho, però, ho aperto, aprirò questo nuovo, nuovo canale, questa nuova, nuova pagina, quindi, direi che, siamo arrivati a 45 minuti, abbiamo detto, tante, tante, tante cose, abbiamo parlato tantissimo, della voce, in home recording, vi ricordo che, sul canale YouTube, ci sono tutte le puntate, domani troverete anche questa, se ve la siete persa, e, niente, io ringrazio, Mara, per aver partecipato, a, a questa cosa qui, dell'home recording, per la voce, spero che si sia divertita, è stato divertentissimo, meno male, sono contenta, e, e niente, salutiamo tutti, io te ci, parliamo, ci sentiamo poi, collegamento chiuso, ciao, ok, ciao,